Cari amici di Nice, dopo 15 giorni di assenza, torna l'appuntamento con la lettura e l'analisi di Così. Parlò Zaratustra, 15 giorni di assenza dovuti a molti impegni con la scuola e con una serie di conferenze che sto preparando, però il buon vecchio Nice non poteva ulteriormente mancare. Il passaggio che leggerò e commenterò stasera è intitolato Del cammino del creatore. Sono senza occhiali e senza lenti e pertanto avvicino un po' il libro, ai miei occhi sono mio, del cammino del creatore. Fratello mio, vuoi andartene in un luogo isolato? Vuoi cercare la via verso te stesso? Indugia ancora un poco e ascoltami. Chi cerca perde facilmente se stesso, ogni isolamento è colpa, così parla il gregge. E da tu, da lungo tempo, fai parte del gregge. La voce del gregge risuonerà ancora in te e quando dirai io non ho una medesima coscienza in comune con voi, ciò sarà un lamento e un dolore. Vedi, proprio la coscienza comune generò anche questo dolore e l'ultimo barlume di tale coscienza si accende ancora sulla tua malinconia. Ma tu vuoi seguire il cammino della tua malinconia che è il cammino verso te stesso? Fammi dunque vedere il tuo diritto e la tua forza a fare ciò. Sei una nuova forza e un nuovo diritto? Un movimento originario? Una ruota che gira da sé? Riesci a indurre anche le stelle a fare di te il centro delle loro orbite? Ahimè, beh, tanta avidità di altezza, vi sono tante convulsioni di ambiziosi. Mostrami che non sei né avido né un ambizioso. Ahimè, vi sono molti grandi pensieri che non fanno niente di più di un mantice, gonfiano e rendono sempre più vuoti. Ti dici libero? Voglio ascoltare il tuo pensiero dominante e non che sei sfuggito a un gioco. Sei tu così fatto da aver avuto il diritto di sfuggire da un gioco? Ci sono alcuni che hanno buttato via il loro ultimo pregio quando hanno buttato via la loro dipendenza. Libero da che cosa? Che cosa importa questo azzaratustra? Ma il tuo occhio deve chiaramente annunciarmi. Libero per che cosa? Sei in grado di dare a te stesso il tuo male, il tuo bene, di fissare sopra di te la tua volontà come una legge? Riesci a essere giudice di te stesso e vendicatore della tua legge? E' terribile essere soli con il giudice e il vendicatore della propria legge. Così una stella viene scagliata nello spazio desolato e nel gelido respiro della solitudine. Oggi soffri ancora a causa dei molti. Tu che sei uno, oggi conservi ancora tutto il tuo coraggio e le tue speranze. Ma un giorno la solitudine ti stancherà, un giorno il tuo orgoglio si pigherà, il tuo coraggio si sgretolerà. Un giorno griderai, sono solo. Un giorno non vedrai più la tua grandezza e vedrai troppo vicina la tua bassezza. La tua stessa sublimità ti farà paura come uno spettro. Un giorno griderai, tutto è falso. Esistono sentimenti che vogliono uccidere il solitario. Se non ci riescono, allora devono essere essi stessi destinati a morire. Ma tu sapresti essere assassino? Fratello mio, conosci già la porra di sprezzo? E il tormento è dato giustizia essere giusto verso coloro che disprezzano? Tu costringi molti a reimparare, a conoscerti. E di ciò ti chiedono se veramente conto. Sei giunto vicino a loro e sei passato oltre? Non te lo perdoneranno mai. Tu cammini al di sopra di loro, ma quanto più sali in alto, tanto più piccolo ti vede l'occhio dell'invidia. Più di tutti però è odiato colui che vola. Come potevate essere giusti con me? Devi dire, io mi scelgo la vostra ingiustizia come parte che mi spetta. In giustizia e sozzura essi riversano contro il solitario. Ma fratello mio, se vuoi essere una stella, non di meno devi fare luce anche per loro. E guardati dai buoni e dai giusti. Essi mettono volentieri in croce coloro che si inventano la propria virtù. Essi odiano il solitario. Guardati anche dalla santa semplicità. Per lei non è santo tutto quello che non è semplice. Lei gioca anche volentieri col fuoco dei rodi. E guardati anche dagli impedi del tuo amore. Troppo sollecito il solitario tende la mano verso colui che incontra. A certi uomini tu non devi dare la mano, ma solo la zampa. E voglio che la tua zampa abbia anche artigli. Ma il nemico peggiore che puoi incontrare sarai sempre tu per te stesso. Sono tutti apposti in agguato contro di te nelle caverne e nella foresta. Solitario percorri la via che porta te stesso e la tua via sorpassa anche te e i tuoi sette demoni. Tu sarai un eretico per te stesso, una strega, un indovino e un buffone, un dubbioso. Uno che non è santo ed è malvagio. Tu devi volerti bruciare la tua stessa fiamma. Come potresti rinnovarti se non sei prima diventato cena. Solitario percorri il cammino del creatore. Un Dio vuoi crearti dai tuoi sette demoni. Solitario percorri la via dell'amante. Tu ami te stesso e perciò ti disprezzi come i suoi amanti sanno disprezzare. Colui chi ama vuole creare perché disprezza. Che cosa sa dell'amore colui che non è stato costretto a disprezzare ciò che amava? Va col tuo amore e con la tua creatività, fratello mio. Va nel tuo isolamento e solo più tardi la giustizia ti verrà dietro, zoppicando. Con le mie lacrime per compagne va nel tuo luogo isolato, fratello mio. Io amo colui che vuole creare al di sopra di se stesso e in tal modo va a fondo. Così parlò Zaratustra. Mi ripeto, che dire, scrittore immenso, scrittore sublime, filosofo-poeta, poeta-filosofo. Immagini come al solito da brividi del cammino del creatore. Nietzsche ci presenta la scelta dell'uomo che vuol diventare Übermensch, che tende all'oltreuomo di lasciare il gregge. La via che conduce all'oltremismo, che conduce alla morte di Dio, che conduce alla forza che serve per reggere la morte di Dio e la forza che serve per diventare volontà di potenza, la strada da seguire, la forza che serve è quella dell'uomo solitario. Per diventare solitari, per diventare oltreuomini, per diventare uomini in grado di volare, serve abbandonare il gregge. Ma il gregge fa di tutto per tenerti a fianco. Il gregge ti sanziona, il gregge ti considera sbagliato, colpevole. Il gregge ti giudica sbagliato se lo abbandoni. E dunque il gregge ti dirà che solo nella massa, che solo insieme a una moltitudine tu sarai uomo. Invece è indispensabile abbandonare il gregge e scegliere la via della solitudine. Servesse una ruota che gira da sé senza essere girata e senza girare con altre ruote. Serve diventare una stella che è il centro di se stessa, non più satelliti, non più periferici, non più esseri soggetti che ruotano attorno ad altri, non più appendici, non più mezzi, non più strumenti, bensì fini, centri, soggettività al centro del mondo e dell'universo, non più satelliti su delle orbite attorno al sole, bensì sole, soli. L'uomo solitario si trasforma in un sole attorno a cui gireranno altri pianeti, altre soggettività, altre orbite, ma l'uomo solitario non si fa più satellite, periferia di niente, di nessuno. Tu ti dici libero soltanto se hai la forza di scegliere la solitudine potrai essere libero, soltanto se sconfiggi la paura, soltanto se inizierai la scalata verso la montagna. Esistono sentimenti che vogliono uccidere il solitario, tu devi sfidare, reggere quei sentimenti, devi essere disposto ad ucciderti, devi essere disposto ad uccidere il tuo essere gregge, il tuo essere numero, il tuo essere strumento, il tuo essere mezzo. Devi imparare a riconoscerti, devi reimparare a conoscerti. Non ti conosci fino in fondo, uomo nel gregge, per conoscersi bisogna stare da soli, serve la solitudine. Non ti perdoneranno mai, i membri del gregge non ti perdoneranno mai, non ti perdoneranno per averli abbandonati e per questo ci sarà invidia, ci sarà violenza, ma salendo verso l'alto gli occhi dell'invidia si faranno piccoli, 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 gli invidiosi saranno lontani, ma serve la forza e la sicumera della solitudine. E quando spiccherai il volo, uomo che si è fatto oltre uomo, uomo che ti sei fatto oltre uomo, uomo che stai andando al di là dei limiti dei confini, quando spiccherai il volo, uomo, tu non sentirai più su di te gli sguardi degli invidiosi, saranno lontani, ma a quel punto ti odieranno ancora di più, perché chi spicca il volo è odiato, la mediocrità vuole mediocre, la mediocrità premi i mediocri, i sofisti premiano coloro che guardano le ombre incatenate nella caverna e uccidono Socrate, va bene, i premi, la televisione ti premia se continui a guardarla, i supermercati ti premiano se continui a fare la spesa da loro, i distributori ti premiano se continui ad accumulare punti, la fedeltà del greggio è premiata, le religioni premiano i fedeli, gli obbedienti, le pecore, ecco dice, serve la potenza dell'uomo per farsi solitario, serve la forza, il coraggio per farsi solitari. E guardati anche dagli impeti del tuo amore, troppo sollecito e solitario tende la mano verso colui che incontra, devi avere la forza di abbandonarti la solitudine, devi reggere quell'angoscia, il peggior nemico sei tu perché avrai paura, e tu devi avere il coraggio di farti cenere, devi avere il coraggio di bruciare perché dalla cenere sorgerà l'uomo nuovo, perché dalla cenere sorgerà un mondo nuovo, tu devi essere un eretico, riferimento al grande immenso Giordano Bruno, tu devi essere strega, riferimento probabilmente a Giovanna d'Arco, tu devi bruciare, arrogo come un eretico, arrogo come una strega, devi trasformarti in cenere, ridurti in cenere per lì ricominciare la vita, la vita dell'altro uomo, la vita del superuomo, dell'Ubermensch, devi bruciare la tua stessa fiamma, ma sei tu che devi appiccare a te stesso la fiamma, non devi aspettare una fiamma posticcia, non devi aspettare che qualcun altro accende il fuoco per te, che prepari i legnetti per te, che prepari le foglie per te, che prepari il palo per te, che prepari il combustibile per te, che prenda i fiammiferi, devi tu essere la fiamma di te stesso, devi bruciarti per poter rinascere, devi disprezzarti, come gli amanti quando litigano si disprezzano, ci si insultano, i due amanti che giungono ad odiarsi, insultarsi, così come i due amanti giungono a disprezzarsi, dopo tanto amore, così tu devi disprezzare te stesso, solo se disprezzi te stesso, puoi ricominciare, puoi ripartire, così puoi sprigionare la creatività, soltanto se giungi a bruciare il rogo, a disprezzare te stesso, puoi liberare la creatività, e la creatività, fratello mio, la si trova nell'isolamento, nella solitudine emerge la creatività, nella solitudine si costruiscono le ali per spiccare il volo, altrimenti con gli altri, nel gregge, ci si sorregge, ci si compatisce, si cercano le vie mediocre, si cerca il riparo tutti insieme, ma tendenzialmente si finisce nell'obbedienza, non è questo l'individualismo liberal borghese che sta esaltando Nice, tendiamoci Nice, qua è un critico sia di massa, ma anche della sua età atomizzata, liberal borghese, dell'uomo cittadino, consumatore, imprenditore, singolo e lavoratore, dell'uomo che conduce la sua vita, dell'uomo che si fa a se stesso, del modello di vita liberal borghese, Nice non è quella la solitudine, quella è la solitudine funzionale, essere atomi per reggere completamente il sistema, sia atomi nella massa, sia atomi massificati, sia individui comunque massificati, ovviamente c'è la critica della massa, la sua età di massa che si sta affermando, questa società che massifica, che rende tutto numero, e in questo, lo ripeto per ogni volta, è un antimoderno, non capisce che ci sono più delle potenzialità, nella massa, ci sono delle forze, anche le creatrici e liberatrici nella massa, forze politiche, forze emancipative, forze culturali, Nice in questo percorso di massificazione, vede soltanto invece la mercificazione, la numerificazione, la anticipiamo ovviamente qua, Heidegger, che è un grande speso di Nice, la reificazione o deificazione, cioè ci trasformiamo in cose tra le cose, e allora nella massa del greggio, si è cose tra le cose, merci tra le merci, numero tra i numeri, numeri che si dissolvono, tra una catena infita di numeri, dunque serve la solitudine, per diventare oltre uomini, per diventare volontà di potenza, la giustizia a un certo punto ti verrà dentro, zoppicando, scusate, bere un po' di acqua e limone perché, ho l'ugula veramente infiammata, sto facendo molte lezioni in questa parte dell'anno, che anticipa i viaggi di istruzione, allora sto cercando di presentare ragazzi, una serie di autori, ho veramente ormai la voce flebile, le corde vocali, già tutte graffiate, e malandate, dicevo la giustizia a quel punto, entrerà nella tua vita zoppicando, zoppicando perché, perché hai rimesso in discussione completamente tutto, hai messo in discussione totalmente l'esistenza, la vita, uscendo dal greggio nella solitudine, hai provato a conoscerti, il conosci te stesso di Socrate, il conosci te stesso di Socrate, passa attraverso la solitudine, Gesù muore solo in croce, e lì probabilmente Gesù coglie il senso più intimo della sua vita, della sua missione, della sua anche essenza, e nella solitudine, chi si capisce veramente cosa si vuole, chi si è, nella solitudine si può spiccare il volo, con le mie lacrime per compagnie, le lacrime che ti accompagnano, non piangono i deboli, piangono i forti, non piangono i deboli, piangono i forti, vai nel tuo luogo isolato, fratello mio, abbi il coraggio di piangere, e vai nel tuo luogo isolato, fratello mio, perché io, Zaratusta, amo colui che vuole creare al di sopra di se stesso, e in tal modo va a fondo, io amo colui che vuole creare al di sopra di se stesso, colui che si è arso vivo alla giorno bruno, colui che si è dato alle fiamme, colui che si è fatto cedere, colui che ha badato il greggio, colui che ha avuto la forza di andare a fondo e di creare su se stesso un mondo nuovo, su se stesso un uomo nuovo, così parlò Zaratustra, cioè così Zaratustra indica la via dell'oltromismo, così Zaratustra indica l'orizzonte di senso da perseguire e da raggiungere, il cammino dell'uomo solitario, il cammino nei piccoli torturi sentieri, il cammino faticoso ci trasforma in Ubermensch, ci trasforma in esseri di dignità, in esseri che hanno un orizzonte di vita ampio, elevato, la vita è una verticalità, bisogna elevarsi, bisogna saper raggiungere le vette da cui poi spiccare il voto, il volo, fatti non fummo per strisciare per terra come serpenti, fatti non fummo per camminare a quattro zampe come i cani, ma fatti non fummo neanche per camminare su due zampe, due gambe, due piedi come uomini del greggio, uomini mediocri. fatti fumo per tentare di volare, e gli uomini che hanno il coraggio nella solitudine di spiccare il volo hanno tutta la forza di una vita di dignità, di libertà, una vita di gusto e di senso, e soprattutto hanno dalla loro parte questi uomini, Zaratustra. prossima video lettura su Nice dedicata al discorso delle donnette vecchie e giovani. Per questa settimana è tutto, Barba Sofia vi augura buonanotte, ci vediamo probabilmente nel weekend per il libro della domenica, spero anche di ritornare presto con nuove rubriche di cinema. La prossima settimana invece per quanto riguarda le lezioni in classe ci sarà probabilmente la rivoluzione industriale. buonanotte tutti.